Maiko Italia presenta l'innovativo sistema di ventilazione meccanica controllata, decentralizzata, REC Smart e REC Duo. È noto che la cattiva qualità dell'aria interna ha conseguenze drammatiche. Umidità, condense, muffe e batteri sono dannosi per noi e le nostre abitazioni. Assicurare un corretto ricambio d'aria è l'unica soluzione per prevenire o risolvere questi problemi. È tuttavia indispensabile farlo in un'ottica di risparmio energetico, prima di tutto evitando di aprire le finestre, sprecando calore o aria condizionata. La ventilazione meccanica controllata VMC con recupero di calore è una tecnologia semplice e pulita che assicura un microclima sano in tutta la casa, unendo comfort abitativo, protezione dell'involucro edilizio ed efficienza energetica. Gli innovativi sistemi di VMC decentralizzati REC Smart e REC Duo di Maiko Italia sono concepiti per il ricambio ottimale dell'aria nei singoli ambienti, con un recupero di calore fino al 90%. Sono gestibili singolarmente secondo le esigenze di ogni stanza e nello stesso tempo interagiscono per creare un vero e proprio sistema integrato di ventilazione in tutta l'abitazione. Sono ideali in caso di ristrutturazione o riqualificazione edile o dove non è possibile installare un sistema centralizzato. REC Smart è l'unità decentralizzata ideale per stanze umide quali bagni e cucine. Installarlo è estremamente semplice. È sufficiente praticare o sfruttare un foro già esistente di 10 o 15 centimetri di diametro a seconda del modello prescelto. REC Smart, un'unità compatta e versatile, può essere installata in diverse posizioni adattandosi anche a spazi ridotti. L'unità è a espulsione diretta e si installa su una parete perimetrale della casa. La gamma prevede varie lunghezze standard e la scelta del modello dipende dallo spessore del muro dell'abitazione. REC Smart è provvisto di uno scambiatore tubolare all'interno del quale avviene il simultaneo passaggio dei due flussi mantenendoli sempre ben separati, evitando così ogni possibile contaminazione dell'aria immessa che viene prefiltrata. Il recupero di calore è assicurato fino a 75%. REC Smart è progettato per un funzionamento in continuo a una velocità a base di comfort. Quando necessario, l'utente può ottenere un ricambio d'aria maggiore, attivabile e temporizzabile fino a 30 minuti tramite comando remoto RLS. La versione con i Grostato è provvista di una tecnologia esclusiva preventata da Maiko, in grado di rilevare e monitorare la concentrazione di umidità nell'ambiente che regola il ricambio d'aria in automatico e in funzione del livello di umidità. Nei vani cosiddetti nobili, quali camere da letto e soggiorni, è particolarmente indicato REC Duo. Questo modello, dal design discreto, si installa su muri perimetrali con spessore variabile fino a 50 cm. Il massimo beneficio si ha da un'installazione a coppia anche in vani separati. Un unico pannello di controllo in dotazione comanda fino a 4 apparecchi contemporaneamente. Dal pannello di controllo si seleziona la modalità di funzionamento desiderata. Con la modalità recupero di calore, gli apparecchi funzionano a flusso alternato reversibile. Invertono il flusso da estrazione e emissione ogni 70 secondi. Lo scambio termico avviene tramite lo scambiatore ceramico che accumula il calore dell'aria in estrazione per poi cederla con un rendimento fino al 90% all'aria in immissione che viene prefiltrata. I livelli di ventilazione sono 5 e si possono selezionare manualmente dal pannello. La modalità bypass prevede che gli apparecchi funzionino in continuo, in un unico senso predeterminato in fase di installazione, estrazione o immissione. Questo funzionamento è utile durante le notti estive per raffrescare le stanze o in caso di sovraffollamento dell'ambiente, come ad esempio in occasione di una festa, favorendo il ricircolo dell'aria. Anche REC Duo prevede la funzione igrostato. Gli apparecchi funzionano in modalità bypass fino al raggiungimento di un tasso di umidità ottimale, sotto il quale gli apparecchi si commutano automaticamente in modalità recupero di calore. La VMC decentralizzata è una tecnologia domestica intelligente che regala alla tua casa più comfort e più risparmio. Lasciati ispirare dalle soluzioni MycoItalia. Ventilazione per il successo.